Le marche che saranno declinate nel lavoro che sarà e nelle aziende che resteranno. Insomma, il futuro secondo la prospettiva dei fondi europei al centro del nuovo appuntamento dell'Osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente della regione Marche. Dopo Loccioni, Incontro Zero, Scavolini, Legno, Arredo, ecco la nuova Simonelli per Meccanica e Engineering. Un settore che fa la parte del leone con 118.000 persone occupate nella manifattura marchigiana. Attorno a un tavolo si sono riuniti imprenditori, ricercatori e parti sociali insieme per declinare la programmazione pluriennale europea 2021-2027. C'è bisogno di sostenere quelle grandi eccellenze che noi abbiamo proiettando la sfida del nostro territorio, le conoscenze e il sapere del nostro territorio in una dimensione che sarà quella del terzo millennio, post-Covid, dove dalla digitalizzazione all'internazionalizzazione, ma tanti altri fattori variabili, avranno un peso determinante per la nostra competitività. In questi luoghi, colpiti dal sisma, la presenza delle istituzioni, la capacità di trattenere il lavoro e anche di ricostruire una prospettiva del lavoro è essenziale anche per evitare lo spopolamento che tanto è pesato in questi ultimi mesi. Stiamo, diciamo così, sfruttando le eccellenze, le aziende migliori che le marche hanno per individuare insieme a loro in un dibattito costante quelle che sono le aree di miglioramento, di competitività del loro sistema. E su quelle andremo a fare una trattativa con l'Europa per farci dare i fondi necessari all'efficientamento del sistema imprenditoriale, dove la Regione ovviamente farà la sua parte, ma la vera parte sarà quella delle imprese stesse che dovranno mettersi in gioco. Noi fungeremo da stimolo e da, in qualche modo, policymaker di alcune scelte che la Regione Marche deve prendere, avendo una visione chiara di quale deve essere la politica industriale del futuro. Nelle Marche sono presenti oltre 400 imprese, tra start-up e PMI, che fanno dell'innovazione la loro bandiera. Le richieste delle aziende sono chiare. Spero, mi auguro, che buona parte di questi fondi vengano indirizzati proprio sulla ricerca, cercando una ricerca ecologica, una ricerca che guarda l'informatizzazione delle prechiature, che guardi i materiali riciclabili, che guardi il minore consumo di energia, perché oggi, se vogliamo esportare, queste sono le strade che ci chiedono. Senza queste strade non possiamo sicuramente essere competitivi in giro per il mondo. Obiettivo, quindi, non perdere tempo, spendere tutto e soprattutto spendere bene. Il come è il costruire un sistema ecologico. Un ecosistema imprenditoriale dell'innovazione che sia virtuoso. Virtuoso significa che finalmente riusciamo a realizzare quello che è il trasferimento tecnologico, dalla ricerca al tessuto imprenditoriale, quindi al nostro contesto produttivo. Le traiettorie tecnologiche, quindi, per questa nuova programmazione, sono condivise con gli imprenditori, che sono al centro di questo ecosistema.